Siamo con Carmen Catozzi nella villa comunale di Salerno, alle nostre spalle ci sono le luci d'artista. Bellissime. Bellissime. Carmen Catozzi, donna Instagram 2017 in un contesto Instagram, poi ha partecipato a Uomini e Donne. L'ultima esperienza che poi ci deve raccontare adesso è proprio quella del grande fratello VIP dove si è stata scelta. Sì, questa è stata la mia ultima esperienza molto carina, sono stata scelta per fare la cliente di una spa che hanno costruito all'interno del programma e mi hanno truccato i VIP in maniera non troppo professionale però ci mancherebbe, fanno altro. In particolare a me ha truccato uno chef quindi voglio dire aveva a che fare un po' più con la cucina che con il make-up. Però è stata un'esperienza bellissima perché insomma entrare nella casa è veramente molto molto particolare. Sì, proprio questo particolare perché sono ovviamente tantissimi milioni di telespettatori che qua però all'interno che sensazione si ha? Guarda all'interno è veramente molto particolare perché a parte che io vedevo, sono stata ovviamente prima dietro le quinte quindi io vedevo tutti gli specchi con tutte le telecamere, non so quanti migliaia di telecamere ci sono insomma ubicate per la casa. E poi entrare dentro è stato veramente ma molto particolare, cioè un'esperienza unica perché ovviamente non è il solito programma televisivo ma è il programma televisivo per eccellenza soprattutto per quanto riguarda le telecamere che sei spiato in ogni dove. Allora tu sei stata truccata? Sono stata truccata sì. Ma poi da un cuoco diciamo. Sono stata truccata sì da un cuoco, guarda non offendere perché loro dicono che lo chef. No, assolutamente. Ma poi si chiama Andrea Mainardi. L'hai promosso o l'hai bocciata? Allora io l'ho promosso con un grande pollice però in verità sono stata insomma molto molto magnanima perché non era, mi ha conquistato più che altro per la sua simpatia, per il suo charm e poi è una persona per la quale sinceramente io faccio il tifo perché è una persona veramente pulita tra virgolette quindi spero che vinca lui. Dal grande fratello VIP ha un'altra bellissima esperienza. Se ce la racconti è quella di uomini e donne dove tu hai partecipato per circa sei mesi. Esatto, ho partecipato dal diciamo da fine 2016 al giugno 2017 quindi circa sei mesi. Un'altra avventura veramente unica, io lo definisco veramente unica e forse ripetibili perché hanno un qualcosa di tra virgolette magico insomma. Però neanche lì ho trovato l'amore, neanche Maria, neanche Maria, la più alta Maria è riuscita a trovare l'amore. A proposito di amore, a proposito di amore. Quindi in questa trasmissione deve nascere sempre questo amore ecco. Esatto. Ma ovviamente chi segue da casa, cosa vogliamo dire, quanti corteggiatori hai avuto? Allora lì mi sono diciamo contenuta sono stati un paio, due o tre insomma di cui la persona, quella un po' più nota era il nostro caro micososcio che come tutti conoscono è stato anche il perno di Temptation Island e adesso è ritornato lì però chissà, chissà che fine farò. Poi Tina, cosa vogliamo dire? Tina, vabbè Tina è un personaggio colorito e colorato che veramente è sempre insomma sul pezzo. A volte è un po' esagerata però è veramente formidabile, voglio dire è formidabile. Maria poi ha, vabbè Maria è una, è eccelsa, penso che aggettivo migliore non ci sarebbe perché è veramente immensa. Allora prima di terminare però Carmen ci ha raccontato queste sue esperienze personali ma in realtà chi è Carmen Catozzi? Allora io faccio l'insegnante, faccio l'insegnante di educazione fisica, vivo a Roma, adesso al momento insegno sostegno e quindi è un mondo un po' diverso però più o meno mi è sempre piaciuto anche da giovane, da ragazza insomma insegnata in palestra quindi ho avuto sempre un po' questo pallino per diciamo il social, poi sono anche una molto social e insomma da cosa nasce cosa, poi ovviamente lavorando e vivendo a Roma è un po' più semplice e ultimamente sto anche facendo, scusami non ti ho detto un'altra cosa, vabbè niente di straordinario sto facendo un, diciamo come il pubblico a volte partecipo a dei record, del show dei record che adesso andrà di nuovo in onda su un canale minore però più o meno gli studi sono quelli su TV8 con Enrico Papi. Ok, allora stiamo per concludere, cosa hai nel cassetto, qualche altra esperienza, qualcosa da fare ancora, ci vuoi anticipare qualcosa? Guarda, non perché non voglio anticiparvi le cose però diciamo che poi una volta entrato nel mondo vediamo un po', se uno ha anche la facoltà di scegliere vediamo che cosa ci riserva anche proprio il piccolo mondo della tv, diciamo così.